Benvenuti o bentornati sul canale di informazione scientifica sulla nutrizione per la salute. Sono il dottor Ricchio Gennaro, biologo nutrizionista. In questo episodio vi parlo di come ritornare in carneggiata se hai abbandonato la tua tida, il tuo percorso nutrizionale. Disclaimer, le informazioni contenute in questo episodio hanno valore puramente informativo, non intendono sostituirsi alla consulenza del medico o del biologo nutrizionista. In questo episodio vi parlo di come comprendere i motivi dell'abbandono, che possono essere aspettative non realistiche, stress e fattori emotivi, mancanza di supporto, stanchezza o noia. Poi vi parlo di come riallinearti con i tuoi obiettivi, cioè ridefinire i tuoi obiettivi, gestire lo stress, cercare supporto, variare la tua routine. Infine, vediamo delle strategie alimentari e di esercizio fisico, che possono essere alimentazione bilanciata, pianificazione dei pasti, esercizio fisico regolare. Se hai bisogno di aiuto per risolvere i tuoi problemi di peso, contattami. La prima consulenza conoscitiva è sempre gratuita. Trovi i miei contatti in descrizione. Se hai trovato difficile mantenere il tuo percorso di dimagrimento, sappi che non sei solo. Abbandonare una dieta è un'esperienza comune, ma ciò non significa che sia la fine del viaggio. In questo episodio esploreremo i motivi per cui potresti esserti allontanato dal tuo percorso di dimagrimento e ti fornirò strategie e pratiche per rilinearti con i tuoi obiettivi di salute e benessere. Comprendere i motivi dell'abbandono Aspettative non realistiche. A volte ci poniamo obiettivi di dimagrimento troppo ambiziosi o non sostenibili nel lungo periodo. Stress e fattori emotivi. Lo stress, l'ansia e le emozioni negative possono portarci a cercare conforto nel cibo. L'assenza di un network, di un gruppo di sostegno può rendere più difficile mantenere la motivazione. Stanchezza o noia. Ripetere gli stessi passi e esercizi fisici può diventare noioso, portando a una perdita di interesse. Come realinearti con i tuoi obiettivi? Ridefinisci i tuoi obiettivi Imposta obiettivi realistici e raggiungibili Ricorda il dimagrimento sano e un processo graduale Gestisci lo stress Trova tecniche di gestione dello stress che funzionano per te come la meditazione, lo yoga o semplicemente delle passeggiate all'aria aperta. Cerca supporto Unisciti a un gruppo di supporto o parla con un amico fidato A volte condividere i propri obiettivi può aumentare la motivazione. Varia la tua routine Introduci nuovi alimenti e attività fisiche per mantenere l'interesse e l'entusiasmo. Strategie alimentarie di esercizio fisico Alimentazione bilanciata Invece di seguire diete rigide opta per un'alimentazione equilibrata che include tutti i gruppi alimentari. Pianificazione dei pasti Preparare i pasti in anticipo Per preparare i pasti in anticipo può aiutare a evitare scelte alimentari impulsive. Esercizio fisico regolare Trova un'attività fisica che ti piace Non deve essere estenuante Anche una camminata quotidiana di 5 minuti può fare la differenza. Ogni giorno non ho nuova opportunità per fare scelte positive per la tua salute Non scoraggiarti Per i parsi farsi Sono parte del viaggio Ogni con comprensione pazienza e strategie adeguate puoi ritrovare il tuo percorso verso il benessere e il dimagrimento sostenibile. Se ti trovi a lottare con il tuo percorso di dimagrimento considera di consultare un biologo nutrizionista. Un supporto personalizzato può fare una grande differenza nel tuo viaggio verso una vita più sana. Aiutami ad aiutare La tua scelta può fare la differenza. Partecipa alla mia iniziativa per promuovere uno stile di vita più sano e consapevole. Insieme possiamo combattere i danni del cibo spazzatura e favorire scelte alimentari più salutari per tutti. Se trovi interessanti questi contenuti condividi e iscriviti al canale per sostenermi ed essere informato sull'uscita di nuovi episodi. Ti ringrazio per avermi ascoltato.